A Roma Fiction Fest una grande anteprima, il sorteggio. Gli anni di piombo in fiction, ancora una volta un tema importante per il nostro paese. Sì, è un tema importante che poi va sviluppato con attenzione, con prudenza, con coraggio. Ritengo che sia fondamentale raccontare delle pagine della nostra storia che hanno segnato il paese. È il punto di vista di una persona normale, di una persona del popolo, quindi di un signor qualunque che si ritrova a suo malgrado dentro una rete più grande di lui. La nostra storia d'amore è raccontata attraverso il tango, quindi il tango segnerà musicalmente ed emotivamente la storia. Mi raccomando, il sorteggio su Rai 1 prossimamente, non perdetelo perché è una fiction bella e importante.